Salve ragazzi, benvenuti a questo video di un amico amici di 3 che vi parla E oggi siamo venuti con noi, siamo nel... sto registrando dopo aver fatto il post partita di Foggia Cittadella E oggi... adesso sono con il pronostico di Olympiacos Juve Ultima partita dalla fase generale della Champions League Noi dobbiamo assolutamente vincere per qualificarci agli ottavi di finale E poi dobbiamo sperare che lo Sporting Lisbona pareggia, pareggi o perda Gas del Barcena, Matanna, Sogessiur che perderà Dunque... dunque allora partiamo subito con le formazioni Partiamo con quella di casa, ovvero quella dall'Olympiacos con in porta a Proto In difesa Cutris, Siser e Re Scusate, ho dimenticato di mettere quest'altro difenso, scusate un momento Ok ragazzi, erano ritornato Ho cambiato, eccolo qui, ho cambiato questo difensore Allora stavo dicendo Proto in porta Mentre in difesa Cutris, Siser, Angels, Deco, Figueras Mentre a centrocampo Ofue e Romao Mentre in attacco Seba, Fortunis, Pard della punta, Anzeri, Fard Mentre i sostituti invece sono Capino, Rezzos, Elabdallawi, Siopis, Gilles, Gonzales e Ben Nabuan Ok Andiamo alla formazione della Juve, eccola qui In porta Buffon, in difesa Alexandro, Rugani, Barzali, De Sciglia Purtroppo non ci sarà Chiellini Chiellini che ha avuto, mi pare, ne stava scritto là Sulle Sulle popoli formazioni della scritta Gastroavite mi pare Non mi ricordo che stava scritto Vabbè Poi a centrocampo Matuidi, Pjanic, Chedira In attacco a Douglas Costa, Iguain e Tibala I sostituti sono Scesini, Benadia, Samoa, Marchisa, Quadrato, Bernadeschi e Maggiukic E noi ci vediamo in campo Eccoci qui Olimpia con Juve La Juve deve sperare che lo Sporting Gisbona perda o pareggi In casa del Barcellona Mentre la Juventus deve assolutamente vincere per qualificarsi Agli ottavi di finale di Champions League Mi saltiamo subito Via, si parte Batta la Juventus ed è iniziata Olimpia con Juventus Di Bala Matuidi per Pjanic Se rubare palla da Pardo Gilles Lange verso Fortunis Non aggia bene il pallone Punizione per l'Olimpia con Fortunis Fortunis Il tiro, traversa Attenzione, colpo di testa La parata di Buffon Mamma mia che sta succedendo Attenzione 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 Mamma mia Si salva qui la Juventus incredibilmente Traversa su calci di pulizia da parte di Fortunis Attenzione Attenzione Palla verso Pjanic È riuscito ad avere la palla Forse Sì, che dire Attenzione 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 Palla Aleksandro Barzagli Attenzione Attenzione All'Olimpia con Fortunis Seba Verso Fortunis Fortunis Seba Fortunis Seba Fortunis Cutris Recupera Di Bala Parta la Juventus Di Bala Higuain Higuain Verso Douglas Costa Recupera Diego Figueiras Ancora Juventus Matuidi di testa Per Douglas Costa Attenzione Qui recupera Palla Da Douglas Costa Da Douglas Costa La mette Verso Matuidi E la Juventus Sfiora il vantaggio Con Matuidi Attenzione Di Bala Mannaggia Attenzione Seba Seba Verso Anzeri Fard Il grosso Murato No Ma che cavolo è successo Si è andata La scosta Qui Commette fallo Punizione Punizione Nostra Attenzione Alexandro Aspetta un momento Ragazzi Vediamo se stavolta Va Ok Alexandro Il cross Murato Spazzato via Se ne è Douglas Costa Douglas Costa Douglas Costa Il sinistro La parata di Pruto Calcio ad angolo Per la Juventus Pjanic Cross Per la Juventus Verso Matuidi Colpo di testa Anzi no Era Douglas Costa Deve essere affondo Per l'Olympiakos Attenzione Di Bala Oh scusate Oh scusate Calcio ad angolo Per l'Olympiakos Fortunis 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 Il cross Palo Andrata via Recupera Douglas Costa La serve Verso Higuain Attenzione Higuain Higuain La mette Verso Douglas Costa Necce Non ha recuperato Attenzione Per No niente Chedira Vincere in pallo Chedira Pjanic Dall'altra parte Verso Matuidi Per recuperare l'Olympiakos Attenzione Chedira Douglas Costa Douglas Costa Ha spostato Qui Incredibile Incredibilmente Attenzione Pjanic Pjanic Higuain Saranno due minuti Di recupero Alla fine del primo tempo Higuain Sbaglia il passaggio Qui Niente Finisce Quello primo tempo L'Olympiakos Juve 0 a 0 Io voglio che Sperate il vantaggio Prima con Matuidi Ragazzi Ci vediamo iniziare Il secondo tempo Vi abbatte l'Olympiakos Ed è iniziato Il secondo tempo D'Olympiakos Juve Di tutto Ancora bloccato Sulla 0 a 0 Intanto Higuain 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 Recuperà Il difezzato L'Olympiakos Poi Higuain Ancora E poi La piazza All'angolino Basso In questo momento La Juventus È in vantaggio Con il gol Di Higuain Olympiakos 0 Juve 1 Rimesso La tarare Per l'Olympiakos Pardo Il cross Verso Anzerifardo Lontana di testa Via Rugani La glass costa Higuain Attenzione Ancora L'Olympiakos Sicile Fortunis Buffon Attenzione Riva Seba Attenzione Qui No Ah no È fuori gioco Oh mio Dio Che fortuna Guarda L'ha colpito Mamma Oh mio Dio Mamma Io no Vabbè Oh mio Dio Come si è salvata La Juve Rimessa Rimessa La laterale Per la Juve Alexandro Matuidi Higuain Perché Dira Di Bala Di Bala Si va a rubare Pala Da Ufue Romao Tutris Attenzione Di Bala Di Bala Sbaglia il passaggio Per Daga Scosta Per Commettere Fallo Attenzione Fortunis Ofue Verso Pardo Attenzione Il cross Mamma mia Non è riuscito a mai Tenere in campo Alexandro Tornano Primo cambio Nell'Olympiakos Escero Mau Ed entra Siopis Corner Per I bianco Rossi Il cross Mamma mia Ripartono I bianconeri Daga Scosta Inseguito Da Siopis Daga Scosta Poi serve Higuain Higuain Daga Scosta Attenzione Daga Scosta Daga Scosta Daga Scosta La parata Di Proto A Juventus Sfiore 2 a 0 Attenzione Che dira Che dira Si fa rubare Palla Intanto Poi Palla Spazzata Via Ragazzi Facciamo Due Cambi Allora Allora Esce Daga Scosta Renta Bernardeschi Lo spostiamo A destra Mentre Il balotto Lo spostiamo A sinistra Esce Che dira Ed entra Marchisio Attacca L'Olimpiakos Intanto Fuori gioco Punizione Per la Juve Attacca L'Olimpiakos Con Carcela Attenzione Ofoe Siopis Recupera Poi Barzagli Per ripartire La Juventus Barzagli Di Bala Bernardeschi Attenzione Bernardeschi Mezzo a due Bernardeschi Parate di prota Attenzione Ancora Bernardeschi Ed è un grandissimo Gol In rovesciata Mamma mia Al 79esimo Del secondo Tempo Un bellissimo Gol In rovesciata Da parte di Federico Bernardeschi Tiro Parate di prota Poi Bernardeschi In rovesciata Segno Un bellissimo Gol Proto Non ci può Arrivare Che tiro Con Rimbalza Il pallone Dunque Olympiakos 0 Juve 2 Gole Di Bernardeschi Dove Attenzione Pjanic Si fa rubare Palla Da Siopis Intendo Sbaglio Ho messo Pausa Attenzione Siopis Il tiro Ammurato Poi Palla Spazzata Via Dalla Divesta Della Juventus Rimessa In avanti Dalla Divesta Dall'Olimpiakos Marin Pardo Recupera Aleksandro Attenzione Di Bala Di Bala Verso Bernardeschi Attenzione Bernardeschi 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 Il sinistro Palla Che finisce Vudi Sarà rimessa All'affondo Per l'Olimpiakos Di Bala Con l'impallo Tene Ancora Terpi Di pallone Attenzione De Sciglio Per Bernardeschi Che è in Fuorigioco Punizione Per l'Olimpiakos Si giro L'Olimpiakos Attacca L'Olimpiakos Seba Il cross Verso Pardo Parata Di Buffon Intanto Tre minuti Di recupero Concessi Dal quarto uomo Intanto Attacca La Juventus Di Bala In mezzo A due Non riesce A vincere Il duello Marin Di testa Sbaglio Il passaggio Per Anza Rifardo Che poi E poi Vige Per il pallone Ma Poi non c'è Niente da fare Finisce qui La partita Finisce 2 a 0 Per la Juve Come ho detto Ieri In un video Finisce 2 a 0 Per la Juve Con i marcatori Iguain Piani Ci pro Quando Iguain E Bernardeschi E ragazzi Invece Ma le statistiche Ok ragazzi Eccole qui Le statistiche Oh ma Io Ma ci fosse Meno una volta Che meritassi Vabbè Comunque Olimpia Cos 9 Tiri 5 Importa La Juve 7 Tiri 4 Importa Il possesso Palla 48% Per l'Olimpia Così 52 Per la Juve Contrasti La Juve 14 L'Olimpia Cos 9 I falli 1 a 1 I calci d'angolo 3 a 1 Per l'Olimpia Così La precisione Tiri 55 Olimpia Così 57 Juve Mentre la precisione Passaggi 64 Olimpia Cos E 61 Juve Noi ci vediamo Ai migliori in campo Di tutte e due le squadre Allora ragazzi Migliori in campo Della Juve Barzagli Con 8,7 Di voto Mentre Nell'Olimpia Cos Andiamo a vedere Chi è Migliore in Campo Vediamo un po' Credo proprio Proto E Romao Con 6,3 Di voto Ok 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 Possiamo Tutti Qui Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Comendate Iscrivetevi al mio canale Ma soprattutto Di tutti Di tutti i video Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao